Il mio frate e il mio amico è fuori bene Dimmi la tassai che fuori bene Molto gente fra dieci e me ne dobbiamo fare La mente è bevi che fuori bene Madame Haydara, bannone e negara Niente mamma mi fa sai aper nassire madame Nassire safle la voce a vu Saiyoya diallo Saiyoya bangdara 1850 Asara de 12 giamme d'abri 1912 Tra le pass globe Samori Touri Almane c'è amore ture, ai c'è avulipale c'è amore ture, abora nabu ture, abora mi pe la be ! Mi pe l'ai mai data, almane c'è amore ture, abora nabori te lè, abora tu lè mors, abora tu lelogu, abora tu la mette, abora tu la mette, abora tu lelogu, abora tu la mette, abora tu la nax Né a 1830, a Sara, e 2 novembre 1900, a Terazgabon. A me cagano il mio foco, il mio foco è un po' che 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 è un po'. L'ombre del 21 Decembre 1949, a Yako, Joseph Oudé, Margaritide, Filipe Opa, Ogui Sefa, Mariam Seremesiè, Tumac Sangara. Sa Yako, si a tro dekangafo, mi mouna, kevaleni djigo. L'aspatu l'amor, L'aspatu l'amor, L'aspatu l'amor, L'aspatu l'amor, L'aspatu l'amor. Mour'amor, Mour' è un po' che è un po' che mi parei. L'oggiamento di Rahan. E al che è sofrì anche keata? La mia vita è la mia vita. C'è couturé bar, nel 9 janvier 1922, c'è couturé a boire a Mamadoula, Mamadou e Bakari sono, Bakari e Alfa sono, Alfa e c'è couturé sono. Noi preferiamo la proprietà e della diversità e della vita da Vescavara. Presidente Boninda Fordomi, c'était il 25 août 1958, a Carapalle, territoriale, Guinea. Presidente Boninda Fordomi, per i virali, se Bambine Corta. Farmenni, guia, 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 guia. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info le petit frère national, le héros, le diretrice du Mali. Faccio come volo dire, belle le cervello, la fierté nationale, belle le cervello che volibèo. Da lì le pari a avuto che la franzia e voi, che voli di me, che voli di me, che voli di una presidenta in me ma, noi è nascera, che volibèo. Dièzore c'è un bel 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 Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è 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 www.mesmerism.info non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito. Halнуvo e la graficazione di Tryingけれ. Ho Steel, ora mi ragazzano perché fa chi non mi spiare, Begもの i contaventamenti tutto. E così, come ciao! S cervello, vediamo. Alle 1 차 Credo tra i Chiarahami fino a continuare a riposo, ma ilzano di Sime è in marcha, É che ieri non stanno in una volta. Eh si è che ieri non stanno in una volta. Una volta in una eta un piede didon, una volta. È un piede isteriore e quella non è lavoir. Unno qui iniziò che non è la nostra. Non c'è l'intera di questo. Oggi noi vengono, non so seguiremo di così. Il mio amore di questo, ma è, una una facoltà di così. Ma non so seguiremo. Si tu es in una casa, tuoi, Wallahi. presentate bene va bene bene e non si non 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 ne vi non lo pockets Non soine pensando. e'opera la jamanà immaginato, orona bacilli sumbepiise vena e malà ne, miliari, miliari, miliari udi duna euro e'opera, non c'è lì, 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 non c'è lì d'γ although, non c'è lì, non c'è lì, non c'è lì, ma che ho show fifth, io non c'è lì, non c'è lì, non c'è lì, non c'è lì, non ho broapprometto, grazie a Vitamin la mamma deveVER le transito che si è alla della barca viola alla che si è chiaro Come con voi? E prima della mamma deve avere la transito che si è brava nella vai alla che si è chiaro Come con voi? ma risalto se non fai un po' ma non mi viene ma 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 no di 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Articolazione della popola. E la cosa? Perché, questo non è stato un maliettile, Luce non è ma lì, non ci sono più fiori con tutti gli anni. Ci sono chiesti di festa della mia madre perché ero un loro figliere, che prezenta accesa in una difficoltàana. Perché non c'est lo, non c'est lo, non c'est lo, non c'est lo, Adesso andiamo, c'è la Lalla, che non si solleva che ora fa che non solleva. Non solleva, non solleva, ed è un contrario a farvi. I siamo grossi nella vita della nostra vita. I abbiamo da parte delle fanno, si troviamo delle nostre fattigioni, ma è sempre più ampena, perché ci sono una dear montagna e durant遊戲 che chi è sempre passato poi spero sufficientemente Quando faremo inizia Il resto al stesso nome Gorrana e Sahelia il nostro cervello è il comandante il comandante suprimente della genesse maliana maia ha bisogna che ci vogliono io sono un po' di più io sono un francesco, io sono un interdito io sono un po' di più, io sono un po' di più io sono un po' di più No? Come ho chiamo il Dua, il Dua, il Dua. Ho il padre, tu mi ha male, il dico di un canale, il nostro canale. Ho il padre, ho il padre, ho il mio che, il mio amore, il mio amore. Il nostro amore, non ci parlano. Non so farai. Non so farai. e non lo faccio non si non si usate si scusate orte a prendi ando e il mio e i tutti il libro siebano e si non e Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nosso corso gratuito è www.mesmerism.info It's not my parents, it's not my brother. Utterre a mourì, it's not my life. No, I'm going to buy a book or buy a book of your children. I'm going to give you a gift. I've got this gift, I'm going to give you a gift. Alla dice, Alla dice, Alla ya ke, Alla ya ke, Alla ya ke, Alla ya ke Alla, Rizan, Nihatmin tana, Har ni warisuri La kika minibisra Tu Allah Passi, Tu Allah, Si tu ne yasura, Tu te kisit niya, Tu lisi tu m'euxuri, Tu lisi tu, Tu ne yasura, Tu se kisit niya, Tu n'euxi, Tu n'euxi, Tu n'euxi, Tu n'euxi, Tu n'euxi, Tu n'euxi, La mia moghola ha parlato di questa è stata di molto grande parte di questo shelf. Ma nessuno si faceva. Inoltre solo una prescrizione e di una chiave, inoltre solo un'esante. Come inoltre? Questa è la milita? Non è la mia moghola terà nervo, doveva dire il problema del mio figlio. Non è assolutamente così, senti il libro dei miei meni e ho una voce. Logements sociali che vengono a me orella. Yassin da un bar non fai sanjolio. Fantà un bar non fai sanjolio. Logements sociali che vengono a me orella. Logements sociali che vengono a me orella. Qu'assistono l'aventura a me orella, Ano sei, si non si vengono a me orella. Ano è una volta che ti ha studi. Qu'è non ho com'e? Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Oggi sono persone molto donne. Sono plutistiche, io li voi lo dicere che Leonardo soff cosmos. grazie 자신istica parmi da lui opinione... Mod적으로 in grado di fare cose, Мacchi betta delle più difficiliosi. Asimì è. Non, non. Si è un asimo giro, non ci sono un asimo, e non ci sono un asimo. Ma questa è una cosa che è che aveva, adesso abbiamo un asimo, e poi loro hanno un asimo, ma come si partono vanno a dire, Asimi, Asimi, non tutti non non ma ma che non c'est'a detto, la giornata, non c'est'a금uente ne ma partiamo da rispondere non ci sono giochi etcé io sono ora esmişi in adesso una casa no l'amore non è che chi non parlare infanti Non, 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 non. Pag. Non ci sono due, no le loro non ci sono due. Si quelle le loro mamma si hanno detto? Non ci hanno detto. Non ci hanno detto che quello di essere detto, non ci hanno detto che si hanno detto. Noi hanno detto che sono due. Non ci hanno detto, non ci hanno detto che stiamo detto. Ma inizia a te farò di farlo, non ci sono tutti i nostri amici. niente di fede, no. E' tutto erro che ti riconosce. Eh, dipendente! Eh, dipendente! Che hai un riconino? Allora, ma io non riconino mai. Allora, un riconino mai. Ho riconino mai, ma io non ho, ma io non ho più. Ho mio sembra schiacciare, ho davvero il premio nazirale. Ho questa, ma io non ho più. Ecco, il riconino che volete con il reso, Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Dove lo fo, il che era chungo chungo, dove lo fo, eh adama? Yogo gharantum, ambava ma napa iga, Yogo gharantum, avila ma dolore Mentre ke monsafo po, e ne monsafo ta e fa sa mindana e go kala, monsafo sujide Hatimi, yemi vye chogel, ben le cerveau toure Monsafo, ima kumayin pa monsafo Hatimi, chogel, chogel, bel le cerveau, boobula rega chamandela, koye ningde, tuchala tatala, tanay Eakala Ambe pranjshim barakafu, kandha poche, kwanim, kwanima, badiristha, amda lai Dambabh voddu kono, ambe nalda chamba inga phooli baya Alassan Gेle Dabby Alassan Temda Dabلا Are e che parla è iniziata, non ci sono compliqui, un'azienda di solito. Ma non si è mai che un'azienda, non si è mai complicato. Qu'è un'azienda? Siamo ai chiesti di essere di essere un av Знаz, e si è un'azienda, non si è un'azienda, si è un'azienda. Si è un'azienda, si è un'azienda. Non si è un'azienda. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info E' un termo su bacca, la rosa nazionale, ma non polifle. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Iaya Kulubali. Iaya Kulubali, ka Bolivéan. Laurent Kulubali, a ka Niber-Serbeih. Renouveau Laurent Kulubali a ka Bolivéan. La voce di Baramunso Yacouba Kounoubali Charlo On è un frere Yacouba Kounoubali Charlo Mi promosione manpo La voce di Baramunso 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 Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici.